wiki radio franco buffoni racconta costantino scavafis oggi 29 aprile ricordiamo costantino scavafis nato il 29 aprile del 1863 e morto il 29 aprile del 1933 più grande poeta greco possiamo dirlo sì col punto di domanda forse perché era un poeta greco che pronunciava il greco in modo molto inglese un poeta cosmopolita che visse ad alessandria dove nacque e morì alessandria d'egitto ma visse a londra e fu a parigi visse a costantinopoli ebbe tre lunghi soggiorni ad atene le metropoli ellenistiche e le cittadine del levante tardo ottomano sono tutte nella sua biografia e soprattutto sono nella sua poesia la famiglia era originaria di costantinopoli una famiglia greca molto ricca dell'alta borghesia diciamo sia da parte di padre che da parte di madre borghesia commerciale import export in casa si parlava francese inglese oltre al greco e questo ambiente cosmopolita e basta un citare un dato ricordare un dato quando costis come veniva chiamato in famiglia costantinos a sei anni nel 1869 viene inaugurato il canale di suez quindi alessandria diventa proprio la metropoli per eccellenza del mediterraneo non solo che cosa accade nella famiglia cavafis accade che nel 72 questo padre uomo d'affari e intraprendente muore con la morte del padre le abitudini della famiglia cambiano drasticamente anzitutto con un trasferimento dall'egitto all'inghilterra da prima liverpool e poi londra per questo che l'inglese entra in modo molto prepotente anche nella formazione del cavafis giovane che trascorre sette anni tra infanzia e adolescenza per l'appunto con educazione assolutamente inglese tant'è vero che nel 1877 anche il passaporto inglese viene concesso a tutta la famiglia la vedova cavafis tra l'altro aveva nove figli e costantino era il più piccolo nel 79 la famiglia torna ad alessandria e qui ormai adolescente cavafis frequenta il liceo commerciale e viene educato in modo molto rigoroso molto rigido nella religione greco ortodossa va subito detto che il suo rapporto con questa religione è un rapporto da mistico senza dio ecco questo è stato così definito cavafis un mistico senza dio molta educazione molta conoscenza molta cultura in ambito religioso greco ortodosso ma come per wild c'è nei confronti dei riti una attrazione assolutamente di tipo estetico credo che i suoi versi parlino perfettamente al riguardo c'è una poesia breve che si intitola in chiesa che potrei citare sembra un adagio maestoso amo la chiesa i suoi labri l'argento degli arredi candelabri le luci le sue icone il pulpito quando entro là nella chiesa dei greci con il profumo d'incenso con le voci e le sinfonie della liturgia la maestosa presenza dei preti e il ritmo solenne di ogni movimento nel bagliore dei loro paramenti il pensiero mi va alla grandezza della nostra stirpe alla nostra gloriosa civiltà bizantina ecco questo il modo in cui cavafis vive diciamo l'esperienza religiosa ma la storia continua a dialogare con la sua biografia in modo molto intenso perché nel 1881 in egito avviene un colpo di stato militare e ad alessandria gli stranieri cristiani furono perseguitati così i cavafis fuggono un'altra volta da alessandria e si rifugiano a costantinopoli che era il la città d'origine della famiglia anche della madre famiglia ripeto molto di alto lignaggio e lì è importante questo questo soggiorno a costantinopoli tra il 1882 e 1885 cavafis si trova tra i 19 e i 22 anni perché lì avvengono le prime esperienze amorose che lasciano una traccia indelebile nella sua poesia e soprattutto nella sua nella sua psiche non tanto per l'esperienza in sé che viene raccontata quanto per il ricordo che l'esperienza lascia e questo ricordo continuerà ad affiorare per tutta la vita più studio cavafis più mi rendo conto che forse sono proprio questi tre anni a costantinopoli quelli fondamentali nella formazione della sua estetica amorosa e quindi poetica potrei citare i versi di una breve poesia queste bettole malfamate ecco queste bettole malfamate erano le stesse che aveva frequentato qualche decennio prima byron nella sua nel suo soggiorno a costantinopoli una notte la camera era povera e volgare nascosta sopra l'equivoca taverna dalla finestra si vedeva il vicolo sporco e stretto da sotto arrivavano le voci di operai che giocavano a carte divertendosi e la su quell'ercio letto squallido ebbi il corpo dell'amore ebbi le labbra sensuali e rosate dell'ebrezza rosate di una tale brezza che anche ora che scrivo dopo tanti anni solo in questa casa vuota mi sento inebriare questo del ricordo è un costante nella poesia di cavafis ma vorrei anche far notare il miracolo della lingua di cavafis una lingua che è fondata sulla sovrapposizione di codici e registri dal volgare il cosiddetto dimoticchi al greco antico dalle espressioni pedanti dei brocati a quelle marmore dei puristi ma da questo melange da qui da questa lingua mista mescidata in qualche modo con un fragezzo solo apparentemente lineare e dimesso da qui esce quella cadenza colloquiale che è proprio lo stilema della poesia di cavafis dicevamo del colpo di stato e del soggiorno a costantinopoli ecco questi greci di costantinopoli erano inseriti nell'amministrazione ottomana ed erano greci anche molto colti e cavafis grazie a questo soggiorno questa influenza diventa un appassionato non solo della lingua greca classica e moderna che parlava in famiglie con gli amici ma anche della storia greca e si appassiona poi alla cultura mediterranea al punto che vuole imparare oltre al francese inglese che già conosce anche l'italiano per poter leggere dante in originale nel 1885 potremmo dire che la sua formazione è compiuta e le fortune della famiglia ormai sono andate come si direbbe almeno ritorna ad alessandria con la madre ormai fratelli maggiori alcuni sono morti altri sono allontanati e ad alessandria egli abbandona la cittadinanza inglese e questo è un dato molto importante sia sul piano pratico perché abbandonando la cittadinanza inglese perde molti fondamentali diritti in quanto non dimentichiamo che l'egitto ormai un protettorato inglese rinunciando alla nazionalità inglese Cavafis praticamente si toglie dalla possibilità di poter tra virgolette fare carriera infatti avrà poi un impiego presso il ministero egiziano dei lavori pubblici dove lavorerà 30 anni ma sarà sempre un impiegato di secondo rango non potrà mai accedere perché ha rinunciato lui stesso alla cittadinanza inglese per assumere quella greca e questo la dice lunga sul suo suo carattere contro la carriera nel lavoro contro la carriera nella letteratura contro il perbenismo contro l'ipocrisia prima di questo impiego e parallelamente all'impiego stesso al ministero egiziano dei lavori pubblici fu giornalista giornalista economico perché appunto aveva fatto studi in quell'ambito con un'intensa attività letteraria sempre costantemente ma molto privata molto discreta fu anche agente di cambio e giocava in borsa giocava anche d'azzardo era un uomo portato a dosare ma sempre con molta ritrosia sempre molto pudico e discreto sempre concentrato sul suo mondo interiore e soprattutto su questa poesia che gli scriveva segretamente possiamo dire e potrei citare un paio di testi ancora che brevi e molto molto significativi a riguardo questo si intitola lo specchio all'ingresso quindi l'oggetto è lo specchio e quindi una poesia che potrebbe richiamare il surrealismo in qualche modo in questo caso lo specchio a differenza di quanto non avviene in dorian gray non si anima ma si anima qualche altra cosa quella lussuosa casa aveva nell'ingresso un grandissimo specchio molto antico acquistato almeno 80 anni fa uno splendido ragazzo commesso in sartoria di domenica atleta dilettante stava lì con un pacco in mano consegnandolo poi a qualcuno della casa che andò dentro per la ricevuta e il commesso intanto restò solo per distrarsi nell'attesa si accostò allo specchio e nel guardare si aggiustava la cravatta gli portarono indietro la bolletta lui la presa e se ne andò ma quello specchio antico che nella sua lunga esistenza ha visto così tanto e si gloriava di avere accolto tanto gioiva adesso nella sua pienezza per qualche istante gioiva della bellezza il tema è sempre questo della inafferrabilità della bellezza quindi tavafis che conosceva la letteratura la poesia europea a lui contemporanea quindi possiamo trovare spunti ho detto prima surrealisti simbolisti decadenti estetizzanti parnassiani la critica si è sbizzarrita ma in definitiva il suo stile è il risultato di una scoperta tutta sua il riflesso del suo temperamento e del suo istinto naturale per le parole che si coniuga con la sua capacità di descrivere per l'appunto inafferrabilità della bellezza e anche in quest'altra poesia peraltro molto famosa si intitola si informava della qualità vediamo egualmente queste caratteristiche ecco potremmo dire cavafis snobba le piccole mode letterarie dell'atene di fino ottocento che erano anche molto provinciali ma non si adegua né alle mode parigini né a quelle né a quelle inglese la sua versione è linguistica e poetica insieme e sta creando qualche cosa di unico in questo potremmo assimilarlo a hopkins a emily dickinson sta veramente creando qualcosa di nuovo che è con la lingua e con la tematica la tematica entra nella lingua la lingua entra nella tematica qualcosa di nuovo il suo vero segreto è questo cosmopolitismo e anche questo isolamento che con il passare degli anni diventa sempre più accentuato ma si informava della qualità era stato assunto in quell'ufficio con un posto irrilevante e mal pagato tolire al mese compresi gli extra uscì non appena ebbe finito il suo triste lavoro che lo aveva tenuto curvo tutto il pomeriggio uscì alle sette e camminava lentamente attardandosi per strada bello e interessante dava l'impressione di aver raggiunto la piena maturità dei sensi aveva compiuto 29 anni il mese prima camminando attraversava i poveri vicoli che lo portavano a casa passando davanti a un piccolo negozio dove vendevano merce dozzinale a basso costo roba da operai scorse là dentro un volto una figura che lo spissero a entrare disse di voler vedere dei fazzoletti colorati si informava della qualità dei fazzoletti e di quanto costavano con voce soffocata quasi spenta per il troppo desiderio e anche le risposte arrivavano distratte a voce bassa con un tacito consenso non facevano che parlare della merce ma uno solo lo scopo spiorarsi le mani sopra i fazzoletti avvicinare i volti le labbra quasi per caso in un improvviso contatto dei corpi veloci e furtivi perché non si avvedesse di niente il padrone seduto in fondo al negozio questa capacità modernissima di filmare quasi la scena e renderla tale in poesia nel 1899 alla morte della madre cavafis vive per un po con il fratello poi resta solo e potremmo dire che inizia la sua fase senile dal 1907 abita nella famosa casa di via lepsis ad alessandria e in questa ovattata solitudine di una casa rischiarata dalle candele e popolata di fantasmi in questa penombra rivivono questi fantasmi di questi giovani conosciuti in queste taverne a costantinopoli o alessandria quando egli era giovane con le finestre sempre chiuse con la lampada a petrolio ecco e qui l'immaginazione con l'immaginazione ecco che si rivivono gli anni giovanili si rivivono le esperienze c'è questo testo del 1908 che permette a noi di definire cavafis come poeta del desiderio del passato insieme poeta del desiderio del passato e montale scrisse a riguardo una frase molto acuta disse la genialità di cavafis consiste nel riuscire ad immergerci in quel mondo come se fosse il nostro in quel mondo che a noi è tanto lontano questo era sempre la sottolineatura che montale faceva quando parlava di autori omosessuali in quel mondo come se fosse il nostro e questa insistenza sull'età dei giovani che gli descrive i preferiti erano sempre tra i 27 28 29 anni questo gusto di dire l'età nella poesia che sto per legge vi giorni del 1908 il giovane era 25 anni quell'anno rimase senza lavoro e così viveva di carte gioco e prestiti un posto di tre lire al mese in una piccola cartoleria gli era stato offerto ma lui non aveva esitato a rifiutarlo non andava non era uno stipendio per lui lui era un giovane di una certa cultura di 25 anni ogni giorno metteva insieme sì e no due o tre scellini dalle carte e dal gioco cosa mai poteva ricavare nei caffè del suo livello quelli popolari per quanto fosse abile nel gioco per quanto sciocchi fossero gli avversari i prestiti poi c'erano e non c'erano raramente trovava un tallero più spesso mezzo talvolta si riduceva anche allo scellino qualche settimana appena fuggiva da tremende notti insonni si rinfescava ai bagni nuotando al mattino i vestiti ridotti uno straccio sempre uno il vestito che portava un vestito chiaro stinto giorni dell'estate del 908 in voi magicamente scomparve il suo vestito chiaro stinto ma voi lo avete serbato ecco i giorni diventano il soggetto voi giorni lo avete serbato quando toglieva e gettava lontano gli abiti indegni e la biancheria rattoppata e rimaneva nudo incredibilmente bello spettinati ribelli i suoi capelli le membra appena abbronzate ai bagni e sulla spiaggia nella nudità del mattino è una poesia fragilissima da un certo punto di vista ma con una potenza linguistica è una potenza dell'immagine una freschezza dovuta a questo stile che si basa molto anche sulle modificazioni di tono sugli incisi magari di tono diverso sulle parentesi ecco che spero di riuscire a far cogliere in queste breve citazioni che sto facendo dalla sua opera nel 1922 a 59 anni si ritira ulteriormente va in pensione e da quel momento frequenterà i suoi amati caffè ma non quelli sordidi frequentati in gioventù e taverne bensì i caffè eleganti quelli con la sala dei giornali e dei libri e lì incontrerà giuseppe ungaretti di 25 anni più giovani di lui che ad alessandria come sappiamo visse una parte fondamentale della sua esistenza e ungaretti lasciò questo ricordo di cavafis a volte nella sua conversazione lasciava cadere un motto pungente e la nostra alessandria assonnata in un lampo allora risplendeva lungo i suoi millenni come non vidi mai più nulla risplendere in quel modo ecco questo il giovane ungaretti su cavafis e qui e qui salta fuori la dimensione tragica della storia che poi fa da sottofondo a tutta l'opera di cavafis che poi la sua poesia più famosa registra che è aspettando i barbari registra indelebilmente e credo che questa poesia aspettando i barbari con questa dimensione della strada tragica della storia debba essere compiutamente letta qui abbiamo cavafis poeta storico ma soprattutto autore idealmente tardo romantico protobizzantino in cui proietta la propria biografia o è un autore tardo antico ecco questo rapporto di cavafis con la storia con il tempo profondo con i millenni eventi verificatisi nel presente nel recente passato o nell'antichità vengono uniformemente allineati in una stessa distanza agli occhi dell'osservatore la storia di viene terreno di scontro tra l'uomo e la sua sorte eros e storia e l'oggi che diventa antico classico piuttosto che il passato ad essere attualizzato aspettando i barbari che aspettiamo qui riuniti nella gorà devono arrivare i barbari oggi perché tanta inerzia nel senato quando si decidono i senatori a legiferare è che oggi arrivano i barbari che leggi vuoi che facciano i senatori verranno i barbari a legiferare perché l'imperatore si è alzato tanto presto e sta in trono solenne con la corona in testa alla porta maggiore della città è che oggi arrivano i barbari e l'imperatore si appresta a ricevere il loro capo anzi ha preparato una pergamena da offrirgli con titoli e molti nomi perché i nostri due consoli e i pretori sono usciti oggi con la toga rossa richiamata perché portano bracciali pieni di ametiste e anelli con splendidi smeraldi perché mai portare oggi scettri preziosi cesellati d'oro e d'argento è che oggi arrivano i barbari e queste cose sui barbari fanno effetto perché i nostri bravi oratori non sono qui come sempre a tenere discorsi e a dire la loro è che oggi arrivano i barbari e loro si annoiano di tante parole ed eloquenza perché all'improvviso sono tutti così nervosi e inquieti i volti come si sono fatti seri perché le strade e le piazze si svuotano e tornano a casa tutti pensierosi anche se è fatta notte i barbari non sono più venuti e qualcuno è arrivato dai confini e ha detto che i barbari non ci sono più e ora senza barbari che cosa sarà di noi dopo tutto quei barbari erano una soluzione e quindi capite che qui certo qualcuno ha parlato di monologo drammatico di robert browning come possibile richiamo questa sua lirica petrosa e nuda io credo proprio che cavafis sia impossibile da parallelare a qualsiasi altro poeta ecco forse quando parliamo di passato parliamo di un passato plurimo egizio bizantino ellenistico alessandria al centro ecco quindi in mente quel passaggio della della wasteland unreal city quando alessandria viene citata insieme a gerusalemme londra ma è un passaggio per infine credo che l'antichità di cavafis sia un presente retrodatato e pertanto perfetto e il fatto questo fatto di cui si è appena parlato nella poesia dei barbari ma il fatto dei tiranni come nella famosa poesia di per se biscele quello simandias dove il monumento al principe si è completamente disgregato ma un tratto del volto una scheggia con un ghigno della bocca il ghigno di freddo comando rimane e si intravede nella sabbia e si vede il senso del potere quel potere che appunto cavafis stesso rifugi tutta la vita ma che solo l'arte riesce a tramandare nel corso nel corso dei millenni il ritratto del potere e della inutilità di qualsiasi brama di possedere nella vita non dobbiamo pensare a un cavafis sconosciuto era conosciuto nei circoli colti di londra di parigi si parlava già della sua poesia la resta per esempio in quartetto d'alessandria scrive continuavo a sentirmi tutt'attorno la presenza del vecchio poeta soffondersi per la cerchia delle strade buie con l'odore di quelle poesie che aveva distillato dalle sue esperienze amorose squallide ma fertile amori ancora vividi in un verso per la tenerezza con la quale aveva saputo coglierne l'attimo fuggente a fissarne i colori ecco al di là dell'uso dell'aggettivo squallido che dare oggi non lo si farebbe più quest'uso per questo amore diciamo omosessuale al di là però dell'uso di questo aggettivo dare il centro credo proprio il punto critico e quindi cavafis riuscì a sapere in vita che la sua poesia stava avendo successo anche se praticamente egli la pubblicò in modo molto parcellizzato possiamo dire che la vera edizione uscì poi postuma nel 1935 ad alessandria e per il centenario della nascita nel 1963 ci fu il corpus delle 154 poesie approvate da cavafis e solo nel 68 appare l'edizione delle 75 poesie inedite scritte tra l'82 e il 1923 sulle quali aveva scritto da conservare ma non da pubblicare e ancora altre 27 poesie con scritto ripudiate però non distrutte quindi oggi noi ne siamo venuti in possesso in italia cavafis è stato tradotto da filippo maria pontani per mondadori nel 61 e poi da nello risi regista e poeta che con l'ausilio di della madrelingua greca margherita dalmati ha reso una memorabile versione di cavafis più recentemente l'edizione completa curata da massimo scorsone e quella di paola maria minucci oltre alla scelta di paolo ruffilli curioso che oden il grande poeta anglo americano tradusse cavafis ma dal francese delle versioni che ne fece margherita jorsena e direi che l'ultima frase di cavafis fu ho ancora da scrivere 25 poesie morì di cancro alla gola non potevi più parlare negli ultimi mesi di vita ho ancora da scrivere 25 poesie l'ultima frase che gli pronunciò poi quando perse completamente la voce scrisse un punto circondato da un cerchio e questo fu l'ultimo segno che gli fece per fortuna aveva già scritto poesie come questa brevissima per quanto puoi e se non puoi la vita che vorresti cerca almeno questo per quanto sta in te non la umiliare nei troppi contatti e discorsi nei troppi andirivieni con la gente non la umiliare portandola in giro troppo in giro esponendola alla stupidità quotidiana dei rapporti e degli incontri fino a farne una fastidiosa estranea il 29 aprile 1863 nasce ad alessandria d'egitto costantino scavafis franco buffoni l'ha raccontato a wiki radio a cura di federica barozzi e loredana rotundo con lorenzo pavolini e roberta vespa per riascoltare per scaricare e per saperne di più wiki radio punto